non c'è due senza tre direbbe il saggio e se vi dicessi guardiano e museo si è proprio lui Larry Daly il guardiano del museo di storia naturale di New York che deve intervenire a tutti i costi e al più presto per salvare i propri amici questa volta però si gioca fuori casa quindi non più New York ma dai cugini inglesi del British Museum scopriremo come andrà a finire in questo terzo capitolo della saga diretto da Sean Levy con protagonisti i soliti Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Ben Kingsley e Ricky Gervais al Cine Vittorio Locri sala rossa dal 5 febbraio una notte al museo 3 il segreto del faraone Grazie a tutti